La cosa che mi manca di più della vita di prima sono le cene e gli incontri con i miei amici, gli scambi di pensiero guardandoci negli occhi e gli abbracci. La libertà, la libertà di fare tutto, la libertà di uscire, la libertà di viaggiare, la libertà di incontrare le persone, la libertà di abbracciarli, di baciarli, la libertà in assoluto. Sicuramente la cosa che manca di più della vita precedente è il contatto fisico con le persone, poter stare insieme in più soggetti in diversi luoghi. Io sono un designatore e abbiamo prodotto molti nostri prodotti in Japan, quindi una parte che mi missa è sicuramente la mia viaggiare a Japan. La una cosa che è stata scoperta da noi, la una cosa che è stata scoperta, la contattazione, la randondazione, la presenza fisica di altri humani. Grazie. 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 Grazie.